andiamo ad aprire tutte queste cose qua superstar gratuite 100 monete mitico leggendario leggendario star leggendaria attenzione perché sbloccare rt manca poco mitico attenzione mitico mitico ancora mitico mitico leggendario leggendario ancora ancora leggendario ok adesso ci sono 7 super casse raga 7 super casse vediamo di trovare qualcosa di epico anche qua attenzione attenzione la carta che lampeggia attenzione perché lampeggia qualcosa attenzione lampeggia ora spacchettamento gratuito non dispiace non dispiace anche perché abbiamo trovato qualcosa di interessante no 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 questo è un errore grosso 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 attenzione lui l'ha fatto più grosso mamma mia mi ha ucciso mi ha ucciso prendetelo 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 abbiamo perso pure questa che ti devo riporti